Ehi la ciurma, io sono Mazzettes e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandonship Da quando ci siamo lasciati per fortuna ho avuto delle istituzioni molto molto comode Ho preso abbastanza danni dall'incontro, l'ultimo, quello che avete iniziato a vedere nello scorso video Ma poi dopo ho avuto tre, allora uno in cui pensavano fosse un ladro e gli ho detto no non sono un ladro Uno in cui non è successo niente e un altro in cui stavano cercando di inseguirmi ma sono andato più veloce di loro E quindi tre eventi senza prendere danno e problemi E sono andato a ripararmi un attimo in due posti che c'erano per ripararsi, quindi a posto Direi che possiamo continuare qua e vedere se qua almeno c'è un porto Allora qua dovremmo riuscire a trovare l'icebreaker, quindi probabilmente ci sarà un porto Intanto andiamo qua che c'è un faro Ah abbiamo perso 20 di cose ma abbiamo preso un po' di cibo Allora, 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 allora Sì, il porto c'è Il porto c'è Andiamo a raccogliere un po' prima la roba che c'è in giro Che è sempre utile Così magari in porto possiamo anche acquistare qualcosa di interessante Secondo l'altro siamo messi bene adesso con il pesce Sendo uno sopra quota 900 Che non è male, non è male È che forse torniamo a 1000 così possiamo essere anche un pochettino più tranquilli Anche sugli spostamenti lunghi Perché non sembra comunque 50... 25-50 la botta si sentono Ma qua c'è uno che sta affogando Là dovrebbe esserci un Captain Log Niente, non è successo niente Meno 10 ma abbiamo preso un Captain Log Mi sa che dovrò andare a spendere un po' di soldi là Per il morale della ciurma perché se no Ok, ci hanno dato dei soldi Bene E molto di più quanto ci avrebbero dato per vendere quel pesce C'è altra roba qua in giro, qua sotto No? C'è un evento generico là Andiamo a farlo dai Evento generico Quello a fare di riparazione Che mi pare di aver visto Questo E poi la campana Ok, Alifron Beh non è troppo un problema perché Dovremmo riuscire a gestirli Allora Vai tu Vai Tu No, si sono salvati al pelo entrambi Ottimo, abbiamo guadagnato 10 Di felicità che buono perché altrimenti avrei pagato per riportarlo su almeno 80 Ottimo, una nave riparata Andiamo qua, vediamo Niente, abbiamo perso comunque 10 Abbiamo preso 30 soldi Dovremmo pagare di meno, credo Per tirare sul moral Dov'è? No, qua forse Sì Ci sta Abbiamo dei tratt... No Però possiamo farci pagare per Yes Per aver esplorato Vediamo se abbiamo qualcosa Double shot Flaming Non mi ricordo se è questo che serviva Per la tattica che dicevano qua Flamethrower No, non è questo Flamethrower Flamethrower dovrebbe essere una roba che sostituisci qua, pensa Tipo questi qua Icebreaker, eccolo Eccolo, eccolo, eccolo Lo compriamo subito Comprato rompighiaccio Ottimo Ora possiamo tornare in là Molto, molto bene La prima Andrei a comprare un po' di upgrade Visto che ce l'abbiamo Allora, facciamo Repair Speed Full Crack Resistance Facciamo Full Crack Resistance Che serve non poco In modo da evitare di prendere Imbarcare acqua E direi che per ora possiamo anche accontentarci di questo Poi, già che ci siamo C'è qualcosa da tirare giù qua? Sì, questi eventi facciamoli Allora, vediamo l'evento Quello appunto esclamativo insieme Poi gli altri magari me li farmo io con calma Senza farvi perdere troppo tempo Niente, parla solo della struttura là Niente, quindi metto un attimo in pausa la registrazione Ci vediamo tra poco Rieccoci Allora, siamo arrivati fin su in cima E dopo aver sconfitto un paio di navi E ho ottenuto degli eventi molto positivi Che tra l'altro ci hanno regalato un upgrade Questo Heavy Hull Spikes Siamo qua in questo porto dove abbiamo gli sconti Ho comprato gli ultimi due che mi mancavano per equipaggiare al massimo le section upgrades E ho visto che qui hanno il flamethrower Di cui parlavano Non è, ho visto uno di questi qua Ma bensì è uno di quelli che Qua sono il grape shot Change shot È uno di queste tipologie qua di cannoni Per cui direi che si può provare a prenderlo Metterlo qua Sostituendo Allora, round shot lo mettiamo qua E flamethrower lo mettiamo qua Ne vediamo solo due Ma possiamo prenderne un paio di più Vorrei vedere un attimo come Si gestisce Vediamo un po' di Di pesce va Possiamo vendere anche un Duecento di pesce Ci sta E vediamo un attimo con Tutto al massimo cosa succede Cosa riusciamo a fare Qua terrei dei round shot base Questi sono dei flamethrower Tanto qua se noi mettiamo questi Teoricamente dovremmo riavere Esatto Quelli di prima Flamethrower Ok Qua abbiamo Il grape Il chain shot Qua abbiamo il grape shot Quindi avremmo Una Sezione qua Dedicata all'abordaggio Una sezione di qua Dedicata invece All'affondare La nave nemica Direi che Possiamo anche Tentare Di Farei che vendano Ancora un centinaio di pesce Speriamo di non essere Poi dopo In difficoltà Ma Trecento mi sembra Un po' il minimo da tenere Però che non dovremmo Più comprare niente Verosimilmente La guida che sto seguendo Cosa che diceva Di altro qua Ehm Hull smasher Mortar No parlava anche di Che non è questo Questo è il mortaio base Allora qua dice Se fai un hull smasher E il chain shot Non riescono a riparare Abbastanza Se sei vicino Spamma Grape shot Flamethrower E poi Ram Ok Allora Mh Non l'ha detto questo Ci manca solo il Hull destroyer Dobbiamo andare Di qui Vero Sì A destra E poi in su Ovviamente A destra E se è della roba Comunque ho visto Che L'hull Il L'icebreaker Evita solo Il danno frontale Quello laterale Lo prendi lo stesso Quando ti sposti O quando gli altri Si spostano Per cui Non è che È una cosa Definitiva E quindi combattere Con gli iceberg Non è comunque Molto interessante Ah qua direi Che è un paio di Eventini Ci rifacciamo lo stesso Per vedere se troviamo Delle cose Interessanti Tipo Allora Questo qua Molto spesso Dà degli eventi Positivi Per cui Ci sta Ok Infatti 52 Dindini Non sono male Allora Il punto scolativo Lo farei Però vendiamo Prima qua il pesce Se riusciamo a prendere Un po' di provviste No beh Abbiamo appena Venduto il pesce Per avere Soldi E non facciamo il contrario Vediamo un po' Cosa c'è Niente Peccato Allora Facciamoci due punti scolativi E poi Andiamo in su 22 di pesce Prima con un paio Di punti scolativi Ho fatto Abbastanza soldi E pesce Perché c'era Dei vecchi amici Salvati Di eventi Che ti ringraziano Quindi Sono poi eventi Molto positivi I quali Perché danno Molto di più Che non con un Combattimento Alifron Vabbè Non è male Perché non prendiamo Danno E facciamo un po' Di Quanti sono Cinque Allora Uno Due No facciamo così Allora Due Tu Tre Quattro E cinque Direi Tutti Uniti Nelle retrovie Perché Dovrà Curare Di sicuro Qualcuno Tipo Lui Che è attaccato Da due Contemporaneamente Anche Quest'altro Torna Tornatene là Uh Tu scappa Scappa via Anche tu Porca miseria C'è esploso in faccia Quello Vai via Ottimo Più dieci Così si è un nuovo Cento Ottimo E abbiamo fatto Leggermente Esperienza Niente A questo punto Saliamo in su Qua c'è quella roba là Del culto Ma non andrei ad affrontarla Neanche su Consultando le carte del culto E guardando il ghiaccio davanti Sai che non ci saranno dei porti Nella zona ghiacciata Ok È abbastanza provviste Per una Lunga giornata Sei Messo bene È abbastanza Armi E un mortaio Con Una Buona ciurma Hai usato di recente Un log del capitano No Non ho usato Un log del capitano Effettivamente di recente Facciamo che usare Il log del capitano Nel port Eh Dove tornare al porto Però quello Porca miseria Qui non c'è il porto No No È un Potrebbe essere un problema Torniamo in porto Mi preoccupa Quello che mi dice qua E Allora Vediamo se riusciamo a fare un po' di eventi Che magari ci danno un po' di soldi Cosa è successo? Ah Ci Ci stanno attaccando E tra l'altro Ci hanno incendiato tutto E vai tu Ok Ok Un posto Tutto sistemato Allora Tu Spara nel mente Che se no Aspetta Aspetta vorrei Proviamo a girarci E provare l'avvicinamento Voglio vedere Voglio vedere Sti flamethrower Come Sono Tu Vai sul Grape shot Dell'altro lato Sul Cosa Dall'altro lato Vediamo Vediamo Già che loro sono messi male Vediamo un attimo E che noi abbiamo un po' per sperimentare Vediamo con questi flamethrower Come cambia il discorso Allora Tu che sei qua Vai qua giù in fondo Va No beh No tu stai qua Tanto non abbiamo il Aia No stai ancora Close Vediamo se riusciamo a fare abbastanza Danni così facendo Cavolo Hanno perso tantissima vita Però per il ramming Quindi direi che Andiamo a No aspetta Tu Tu stai Tranquillo Andiamo all'attacco con Questi Vediamo un po' se riusciamo a Fare qualcosa di Buono Ehi Saltate anche voi Perché se no qua È solo un macello Allora Petta Petta Tu vai qua Chi è che sta male Porca miseria Grazie Ce n'è un'altra terra Non mi dire che adesso Ci moriamo tutti C'è qualcuno C'è qualcuno dei miei Messo male C'è questo Da tirar su Dov'è il loro È questo Ok Ok Tieniti Defilato Comunque Medico Ok Facciamo due Contro questo Due contro questo Ok Però questo ha preso Un tratto negativo Wickling Quello anche Eh Dovremmo spendere Bastante soldi Per recuperarci Da questa situazione Non dico tragica Ma negativa Comunque No niente Non derubiamo Noi Facciamo ancora Quella nave Là sotto E poi torniamo In danno il porto Non è stato poi Così positivo Niente Ce n'abbiamo Un altro Anche incapacitato Porca miseria Niente Niente Non è che ci va Benissimo In questo giro Abbiamo fatto Qualche soldino Ma andiamo a spendere Molto di più Di quello che abbiamo Guadagnato Adesso Se che dobbiamo Rimandare Tutto ciò E comunque Con le fiamme Non è che abbiamo Fatto così tanto Dicevano Eh flamethrower È una roba Fichissima Definitiva Invece È vero che abbiamo L'equipaggio Molto scarso Però No ripariamo Però Andiamo un attimo Qua Vediamo quanto Andiamo a spendere C'è Dalla potter carry Allora Tu 68 Altri 68 E questo è anche Da fare revive Niente Abbiamo speso Tutto quello Che avevamo Praticamente C'è roba qua Da fare Non c'è neanche Più niente Da fare Eh Nulla Dovrò Mettermi a farmare Di nuovo Off camera Per andare A recuperare Quello che abbiamo Perso ora Ah Ottimo Hanno preso Un tratto positivo Chi è che era Questo ha preso Il tratto positivo E dei soldi E del pesce Molto bene Proviamo Niente C'è stato solo Dei 10 in più Che tanto Non ci servivano Andiamo a vedere Questa Navetta qua Se è un combattimento Vi saluto Niente Niente È un combattimento Quindi direi Che per questo episodio Può essere tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Abandon ship Spero Che non passerà Troppo tempo Tanto Ora come ora La nave è abbastanza posta Dobbiamo solo recuperare Un pochettino Di soldi in più Perché Abbiamo speso Praticamente tutto Dopo il nostro Tentativo di Abbordaggio Non molto Ben riuscito Forse È dovuto Proprio anche Dal fatto che Abbiamo una Ciurma Molto molto Scarsa Per cui Anche E Il fuoco Non sembra così Oppi Come me lo descriveva Quella guida Forse è una guida Un po' Arretrata Ok Per cui Ibo Non lo so Si vedrà Comunque Io vi invito A lasciare un mi piace Iscrivervi al video Se non lo siete già fatto Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti